Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere un'app per creare il chat fake Allora, l'app si chiama Chat2Video Ed è questa Adesso Allora, si può caricare tranquillamente su Play Store Allora, adesso vi faccio vedere come funziona Allora, innanzitutto aprite l'app Poi, andate tipo su Settings E vedete i nomi, Serenity, Mumble Poi, scuola di aggiungere Per esempio, ho messo Monica Poi, color, picture Potete mettere le foto a profilo, eccetera Io, in questo caso, voglio mettere Io, in questo caso Allora, adesso Touch Chat Allora Allora, io, in questo caso Poi, se volete vedere come mettere il colore, Allora, andiamo su settings, color, così, no, così meglio, ok, adesso vedete un po' lo schermo nero, adesso, questo era il tutorial per questa app, e se, vi ricordo che, vi ricordo che la potete trovare normalmente su Play Store, ciao!